Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i riflessi che il conflitto in Ucraina ha anche nella nostra regione. Prosegue infatti la mobilitazione della cittadinanza di Pescara per aiutare la popolazione ucraina. All'auditorium De Cecco nel complesso della sede della regione i volontari lavorano senza soste per smistare beni e medicinali da inviare in Ucraina. Tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Siamo all'interno dell'auditorium De Cecco, proprio al fianco degli uffici della regione Abruzzo a Pescara dove da qualche giorno è partita questa raccolta beni di prima necessità medicinali per la popolazione dell'Ucraina. Siamo con Olena, una volontaria. State lavorando in tanti, qui senza sosta. Veramente, guardi, un grazie enorme alla regione, specialmente a Sara Marcozzi che mi ha sostenuto da un semplice commento sulla sua pagina Facebook e avevo chiesto un punto di raccolta se ci potevano dare come un locale. Guardi, abbiamo ricevuto una risposta immediata che ci hanno indicato questo punto sull'auditorium di Cecco dove potevamo poggiarci. Le richieste di partecipazione sono tantissime, guardi, tanti, tanti, tanti anche da parte degli italiani. Una solidarietà che mi sta proprio nel cuore e siamo proprio orgogliosi. Intanto quello che ci serviva in proprio d'urgenza sono i medicinali, i medicinali di primo soccorso. Questi che non si trovano, intanto pure raccoliamo il cibo in scatola, quello di lunga conservazione. Le cose per i bambini, le pappe, i pannolini, qualche indumento pure per i bambini, le coperte. Ma i punti più d'urgenza sono medicinali e la roba in scatola. Anzi, volevo fare un appello che abbiamo avuto proprio questi giorni tantissima richiesta da parte dei nostri volontari con i quali stiamo in contatto alla Dogana, perché ci siamo in contatto ogni minuto. Proprio oggi ci hanno detto che hanno bisogno del cibo per animali. Lei mi diceva poco fa che voi cercate di far partire tutti questi scatoloni giornalmente, quindi ogni giorno parte un e mezzo verso... Sì, ma tramite i volontari sì nostri che qualcuno magari abbia un furgoncino, ricarichiamo quello che serve e parte. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, guidato dal colonnello Antonio Caputo, ha raccolto fondi fra i militari che sono stati consegnati questa mattina al parroco ucraino. Don Dimitri. Anche il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara si unisce all'abbraccio dell'Ucraina. Questa mattina, infatti, presso la Chiesa Greco-Cattolica di Rito Bizantino del Santissimo Sacramento per l'Adorazione di Via dei Bastioni, il Comandante delle Fiamme Gialle, colonnello Antonio Caputo, unitamente ad una liquida di finanzieri, ha organizzato un momento di solidarietà con il popolo ucraino raccogliendo tra i militari del Comando di Pescara beni di prima necessità e fondi consegnati questa mattina stessa al parroco ucraino Don Dimitri. È stato un moto spontaneo, un segno, oggi manifestiamo un segno concreto di solidarietà con chi è in difficoltà, è un'iniziativa congiunta con la diocesi di Pescara e con Don Dimitri, insomma, quindi un momento importante di solidarietà, fratellanza e carità, visto che siamo in una chiesa. Per chi è oggi in Italia c'è il dolore di avere amici e parenti lontani e sotto le bombe. Prima, quando sono arrivata, ho lasciato mio figlio in famiglia di mia sorella, però poi ho fatto aggiungere mio figlio qua e sta con me, sta qua. Però lì ce l'ho tutti i familiari, mia sorella, la sua famiglia, i nipoti, con le famiglie, con i bambini, la piccola ce l'ha due anni che stanno, non dico di soffrendo, ma cercano di sopravvivere, una tragedia immane, catastrofe. Migliaia di persone civili uccise in città, in piena città. Si bombardano le città, non si bombardano punti strategici o punti di infrastruttura, anche questo grave. Io ho due figli sposati, ho cinque nipoti, ma il mio genero non è andato a combattere la guerra. Voglio dire una cosa, lo sapete bene che siamo Ucraina unita, ma siamo piccole, non siamo forti e chiudiamo tanto aiuto, aiuto per i nostri figli. Non per noi, perché io sono iniziana, ho un nipote più piccolo, cinque anni, che paura di dormire la notte, invece quello più grande che capisce, che regge perché va a scuola, questo dà qualche domanda alla mamma che non può rispondere. Aiutateci, aiutateci, stiamo pregando di cuore, aiutateci i nostri figli, i nostri nipoti. Cambiamo argomento adesso di saggi in tarda mattinata a Peschiara per l'incendio di una cabina primaria di distribuzione elettrica che si trova nella zona sud della città, nell'area di Biaterino. Gli aia di utenze disalimentate a causa del rogo non solo nel capologo adriatico, ma anche nei comuni limitrofi come Francavilla al Mare e Torrevecchia, Teatina. L'emergenza è rientrata rapidamente grazie alle manovre di telecontrollo da parte dei tecnici che hanno consentito di ripristinare il servizio. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Municipale. Nell'ultimo decennio, secondo uno studio di Confcommercio, nei capoluoghi di provincia abruzzesi hanno chiuso circa 300 attività commerciali. Insieme ai negozi diminuiscono anche i ristoranti e alberghi e a farne le spese sono soprattutto i centri storici. Giuseppe Dintino. Nei capoluoghi di provincia abruzzesi sono scomparse nel giro di nove anni circa 300 attività commerciali e quanto emerge dal report del Centro Studi Nazionale di Confcommercio che ha tracciato l'evoluzione del tessuto economico nell'ultimo decennio. Teramo è il capoluogo che registra il dato più negativo. Qui ha chiuso più di un negozio al dettaglio su quattro. Segue Chieti che registra un meno 14,3% di attività e poi Pescara e L'Aquila dove hanno chiuso i battenti rispettivamente l'8,3% e il 6,3% dei negozi. Il dato è coerente con quanto successo nel resto d'Italia. Confcommercio infatti ha preso in esame 120 comuni di medie e grandi dimensioni per un totale di 921.000 attività di cui 467.000 riguardano il commercio al dettaglio in sede fissa. Ciò che emerge dallo studio è che la crisi è a prescindere dal Covid. Negli ultimi nove anni in Italia hanno chiuso 85.000 negozi di cui solo 4.500 durante la pandemia. In controtendenza però alcune particolari categorie legate al settore del turismo come le attività di ristorazione legate allo street food e al take away o tipologie di alloggio come i bed and breakfast che hanno registrato un trend positivo anche durante l'emergenza sanitaria. Riguardo la ristorazione, l'Abruzzo è in linea col resto del paese. Le attività sono aumentate ma con differenze sostanziali rispetto alla geografia delle città. Se nei centri storici il dato in positivo è solo dell'1,74%, nelle periferie è di circa il 16%. E mentre nei soborghi le attività ricettive abruzzesi sono cresciute di oltre l'8%, alloggiare nei centri storici è sempre più difficile, a differenza di quanto accade nel resto d'Italia. Nel cuore dei capoluoghi abruzzesi è sparita un'attività ricettiva su quattro. Il report insomma fotografa un decennio di lenta desertificazione dei centri storici abruzzesi. C'è urgenza di politiche attive e provvedimenti concreti, fanno sapere da Confcommercio Abruzzo, ma anche di un partenariato istituzionale e socio-economico per mettere in campo strategie condivise che permettano di contrastare lo spopolamento, utilizzando bene i fondi a disposizione, dalle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a quelle della politica di coesione 2021-2027. Il bollettino odierno dell'emergenza Covid in Abruzzo sono 1.213 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. 771 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 9,23%. Continuano a scendere i ricoveri che passano dai 348 di ieri ai 337 di oggi. Si registrano anche tre decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale a 2.975. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 5 mesi e 100 anni. Tra 124 pazienti, meno 11 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 13, numero invariato, sono in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti retto è fermo al 7% per le terapie intensive e scende al 23% per l'area non critica. Vediamo le variazioni rispetto a ieri provincia per provincia. 294 casi in provincia dell'Aquila, 354 in provincia di Chieti, 284 in provincia di Pescara, 221 in provincia di Teramo, 27 per persone che presiedono fuori regione e 17 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E alla luce dei dati, nell'ultimo bollettino, l'Abruzzo supera a quota 200 mila guariti. In 24 ore, infatti, le persone che hanno risolto i problemi con l'infezione sono 602 in più e dunque il totale va a 200 mila 520. Vale a dire che secondo le stime il 15% della popolazione abruzzese è guarito dal Covid. Il record per quanto riguarda invece l'incremento di guarigioni segnalate in un solo giorno risale allo scorso 23 febbraio con 25.527 unità. Risorse triplicate e copertura di tutte le linee come mai prima era accaduto. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato il piano sociale regionale 2022-2024 che porta in dote una cifra complessiva pari a circa 425 milioni di euro. Stefano Recanati. Il nuovo piano sociale della regione Abruzzo avrà una dotazione complessiva di oltre 450 milioni di euro triplicata rispetto alla precedente 2015-2018. La previsione di spesa pro capite per ogni abruzzese è salita da 92,81 euro rispetto a quella del 2018 che era pari a 73,22 euro e del 2016 che raggiungeva una media di 67,16 euro come spesa pro capite. Il piano rappresenta una sfida di innovazione e di miglioramento dei servizi sociosanitari, sociolavorativi per l'inclusione ed il sostegno alla povertà con la spesa in carica di tutte le fragilità e le emergenze sociali in un momento molto delicato come questo. Grande velocità, in poche settimane siamo passati dall'approvazione della delibera ingiunta all'approvazione della legge in Consiglio regionale, è stata appunto una prova di grande maturità e di grande compattezza. Il risultato per l'assessore regionale con delega al sociale Pietro Quaresimale è il frutto di una larga e partecipata consultazione a partire da una cabina di regia composta da oltre 70 attori sociali delle diverse aree pubbliche e private rappresentative del settore sociale e sociosanitario, dalle professioni e degli ordini professionali, del mondo accademico universitario, delle asle, del volontariato e terzo settore, compreso l'osservatorio regionale per il disagio mentale. Quindi sicuramente è uno strumento importante che permetterà alla Regione Abruzzo di dare risposte alle esigenze delle fasce più deboli, come dicevo prima, quindi sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto insieme agli uffici, ringrazio il Presidente Marsiglio, lo Givende del Consiglio regionale che l'altro giorno ha deliberato l'approvazione dopo aver fatto tutto l'iter delle commissioni e quindi sicuramente un risultato importante che ci aspettavamo ed è arrivato, nonostante le tante criticità che abbiamo riscaldato sul territorio a causa del Covid, che ci ha rallentato un po' il percorso. Parliamo di IRA, doppio ferroviario adesso, spiragli d'apertura dopo l'incontro con il commissario governativo. Potrebbero essere accolte alcune richieste di modifica avanzate dai comuni coinvolti. Selenia II. C'è apertura da parte del commissario Macello sulla possibile modifica del progetto di rete ferroviaria italiana per il raddoppio della linea Pescara-Roma. Martedì all'incontro convocato a Roma con il commissario governativo Macello, i sindaci dei territori coinvolti dal raddoppio ferroviario hanno presentato un elenco delle criticità del progetto presentato da RFI e le relative alternative. In primis la variante, una proposta concreta che tenga conto del contesto paesaggistico, delle emergenze ambientali ma che rispetti allo stesso tempo tutte le norme tecniche, come spiega il sindaco di Chieti Ferrara. Gli amministratori di Manopello, dal canto loro, hanno presentato una rielaborazione dello studio della variante Interporto del 2007, aggiornato con gli obiettivi odierni per non gravare su un territorio già penalizzato dall'inquinamento, da rumore e dalla presenza di due passaggi a livello. Un incontro, quello di due giorni fa, che si è concluso con la rassicurazione da parte del commissario governativo Macello che lo spostamento della ferrovia dall'Interporto sarà valutato in sede di dibattito pubblico, spiragli che lasciano ben sperare. Rimpasto di giunta del comune di Pescara è cosa fatta? Cambia l'assessore alla cultura, lascia Maria Rita Paoni-Saccone di Fratelli d'Italia, entra Maria Rita Carota della Lega, adesso le deleghe saranno ridistribuite. Dopo mesi di tira e molla arriva l'accordo in seno alla giunta comunale di Pescara, la Lega vince la battaglia, ottiene un assessorato in più, fuori Maria Rita Paoni-Saccone di Fratelli d'Italia che si è dimessa e al suo posto la leghista Maria Rita Carota. Sono molto orgogliosa e molto soddisfatta per aver ricevuto questo incarico, per aver avuto la stima del sindaco, del mio gruppo politico della Lega, ringrazio per tutti il capogruppo d'Incecco, tutti i consiglieri, tutti gli assessori e non da ultimo tutta la macchina amministrativa che sicuramente dovrà supportarmi per tutto quello che c'è da fare. Confido nella collaborazione di tutti per far venire fuori le migliori idee per far ripartire Pescara. A decidere il rimpasto sono stati partiti. Il primo marzo si è tenuto un tavolo politico del centrodestra, chiesto proprio dal carroccio, a cui hanno partecipato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pescara Futura e Udc. Alla riunione il sindaco Carlo Masci non era presente. Carota, già presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, assume quindi la delega alla cultura e in più quella al patrimonio. Altre deleghe potranno essere ridistribuite per assestamento, ha detto il primo cittadino, ma non ci saranno differenze sostanziali. Ma poca roba, nel senso che il nucleo forte è quello già definito a suo tempo e Maria Rita Carota prenderà buona parte delle deleghe che aveva la Paoni Sacconi, con in più il patrimonio che è importante. Ora è probabile che la competenza sull'esilinido vada al vice sindaco Santilli. All'assessore Sulpizio potrebbe aspettare anche la delega alle politiche della famiglia e quelle sociali. L'assessore cremonese invece con ogni probabilità riceverà la delega al demanio. Per ora l'assessore allo sport, Patrizia Martelli, osteggiata dalla Lega, rimane in sella. Dal rimpasto, oltre a Fratelli d'Italia, che perde un posto in giunta, nesce ammaccata anche Pescara Futura, rappresentata da due consiglieri, che al momento sembra aver rinunciato all'ottenimento di un assessorato. Il Comune di Teramo investe sull'ammodernamento della rete cittadina del gas. Priorità per l'amministrazione comunale affinché non si ripeta la drammatica situazione vissuta nel 2014, quando per una diminuzione di pressione del metanodotto principale, Teramo e Frazioni rimasero per molto tempo senza gas metano. Tania Bonnici-Castelli. A modernare la rete cittadina di distribuzione del gas, una priorità per il Comune di Teramo che annuncia una serie di interventi che a breve renderanno più sicuro e continuativo l'uso del gas metano per i teramani. I lavori si sono resi necessari dopo la brutta esperienza che la città visse nell'aprile del 2014, quando per una diminuzione di pressione nel metanodotto principale, Teramo e la zona montana di Torricella rimasero senza gas. Importanti investimenti sulla rete del gas per sventare ciò che è successo nel 2014. Un miglioramento qualitativo che ci consentirà di poter, da qui a qualche settimana, non appena la rete arriverà in prossimità del ponte San Ferdinando, di poterci ricollegare alla cabina di Teramo e di Carapollo in modo tale da poter creare un circuito ed evitare che si possa ripetere quello che è accaduto nel 2014. La problematica del gas oggi è sotto l'attenzione di tutti, ma questo non è un problema di erogazione di quantità di gas che esce, ma qui è stato un problema di prevenzione per evitare che quello che è accaduto si potesse ripetere nella nostra città. Con queste attività, con queste importanti attività, con questi investimenti che sono stati fatti, oggi possiamo dire, da qui a qualche settimana potremmo dire che questo problema dovrebbe essere scongiurato. Il collegamento tra le due cabine di distribuzione di gas di Carapollo e Teramo Nord farà in modo che non ci sarà mai più mancanza di metano all'interno degli edifici. Ci potranno invece essere disagi transitori per i cittadini a causa dei lavori di interramento dei tubi realizzati dalla società 2i Rete Gas sulle due arterie principali di Via Lecrispi e Via Kona. Questi lavori naturalmente porteranno qualche disagio alla città, quali in particolare? È inevitabile, come dicevamo prima, il fatto che si debba necessariamente scavare per poter posare dei tubi del gas, quindi l'aspetto che vedremo nel prossimo immediato futuro è proprio su Via Lecrispi, dove per ultimare i 500 metri di rete che separano dall'altezza della stazione fino al ponte San Verdinando sarà necessario comunque dover procedere con operazioni di scavo abbastanza delicate e quindi sicuramente arregheremo qualche disservizio alla circolazione piuttosto che alla cittadinanza, però l'obiettivo finale è quello poi di avere una città sicuramente più sicura da un punto di vista distributivo. Una richiesta chiara e forte al Governo regionale, ripristino dei 30 milioni di euro di fondi per l'ospedale di Sulmona. L'istanza è stata presentata dai consiglieri regionali Marianna Scoccia, Silvio Paolucci, capogruppo PD e Pierpaolo Pietrucci. La Regione ripristini i 30 milioni per l'ospedale di Sulmona. Il tema della conferenza stampa indetta dai consiglieri regionali Marianna Scoccia e Silvio Paolucci rivolto al Governo Marsiglio. Secondo i consiglieri la somma, 30 milioni di euro deliberata dalla precedente giunta regionale per l'ammodernamento dell'ospedale Santissima annunziata è stata sottratta dall'attuale giunta regionale. Il problema non è, e questo tengo a precisarlo, che i fondi sono stati tolti da Sulmona per essere messi sull'ospedale di Avezzano perché Avezzano, la Marsica necessita assolutamente di un nuovo ospedale. Quei fondi inizialmente erano anche messi per l'ospedale di Avezzano ed erano stati messi proprio dall'ex assessore Silvio Paolucci anche per l'ospedale di Sulmona. È evidente che questa logica, cioè di togliere da una parte per mettere da un'altra, dimostra una mancanza di programmazione. 20 dei 30 milioni erano destinati al riscatto del mutuo accesso per la realizzazione del nuovo ospedale di Sulmona. Gli ulteriori 10 milioni servivano per infrastrutturare nell'Alabolino e per la demolizione del vecchio presidio e la realizzazione di una piattaforma di atterraggio per l'elisoccorso. Il risultato qual è? Che dopo 3 anni, 36 mesi, anzi 37 di chiacchiere di questo governo Marsilio, che a mio avviso è il peggiore che la storia della giunta regionale ricordi in questa regione, l'unico atto della programmazione è per togliere 30 milioni nel presidio di Sulmona quando nella precedente legislatura in 4 anni inaugurammo un ospedale nuovo. Per il consigliere comunale ed ex candidato sindaco del capoluogo Peligno, Vittorio Masci, si tratta di una delibera farlocca perché mai approvata dal Ministero e quindi dice non c'è stata alcuna sottrazione. Quindi è come TAMGUAM non essendoci un piano regionale di edilizia sanitaria approvato dal Ministero, è come se non fosse stata mai presa in considerazione. Ed è previsto comunque anche con il PNRR di acquisire ulteriori fondi per ultimare i lavori sulla vecchia struttura così da mettere a posto sia la struttura nuova che la struttura vecchia. E con l'impiego quindi alla fine totale di questi famosi 30 milioni. Porniamo adesso di sport e calcio di serie C, ancora amarezza in Casa Pescara dopo la sconfitta arrivata lunedì sera nel finale a Modena. Il direttore sportivo Luca Matteassi, presente ieri sugli spalti di Notaresco, si è soffermato sull'evoluzione avuta dalla squadra dopo gli innesti del mercato. Ed è un finale di stagione che vedrà il Delfino, protagonista della post-season. Il direttore Luca Matteassi, insomma a distanza di qualche ora è passato un po' il bruciore della sconfitta di Modena? Ma sicuramente con il tempo insomma tutte le cose passano però dispiace, dispiace tanto perché abbiamo fatto una partita importante e non meritavamo nemmeno di pareggiare dal mio punto di vista invece è arrivata una sconfitta quindi c'è molto rammarico. Possiamo dire che questa squadra strada facendo anche con un sistema di gioco un po' diverso ha trovato un po' la quadratura del cerchio, forse un viatico per la seconda fase del campionato? Sicuramente, siamo molto più equilibrati, stiamo subendo molto meno di prima, stiamo facendo veramente bene con questo sistema nuovo e continuando con questo atteggiamento, con questo sistema e con questa fame sicuramente sono molto sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni nei play-off. Ecco, l'incognita dell'altra sera è il mancato utilizzo di Ferrari? Ma no, ha mancato utilizzo, Franco aveva avuto un problema alla costola, si è allenato poco, il mister ha fatto giocare dall'inizio Cernigoi perché a Pesaro aveva fatto molto bene, fisicamente sta bene, poi doveva entrare Franco, poi l'espulsione di Trudi ha cambiato tutti i piani. Derisio, Cernigoi, Pontisso, promuoviamo a pieni voti il mercato di riparazione del Pescara? Sì, Gerardi anche che è un giocatore importante, con struttura, un buonissimo difensore, non lo so, questo non sta a me giudicare, insomma, il mercato, però io sono contento perché vedo una squadra adesso molto unita, una squadra positiva, una squadra che ha trovato un equilibrio importante, giocatori veramente che hanno qualità, quantità, che hanno fame e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni ai play-off, dispiace che non sia stato fatto tutto questo da quest'estate e tra virgolette responsabile sono io, però ripeto come sempre c'è una lista di 24, alcuni giocatori non sono andati via, non siamo riusciti a darle via per determinati motivi e quindi dispiace per questo, sarebbe stato bello avere questa rosa da inizio stagione, però purtroppo non abbiamo potuto fare questo. Ci crede Luca Mattea sia il terzo posto? Certo, ci credo al terzo posto, ci credo anche a dei play-off veramente importanti, sicuramente. E dopo due giorni di riposo il Teramo ieri è tornato ad allenarsi in vista della difficile trasferta di Cesena, in Romagna non ci saranno oltre allo squalificato Guidi anche in mezzo al campo Rossetti e Bernardotto, sempre per lo stesso motivo, a ricoprire il ruolo dunque di riferimento offensivo sarà l'uomo del momento, Filippo D'Andrea, l'ex attaccante del Seregno, arrivato nel mercato di riparazione ha avuto un impatto importante con la nuova maglia, mettendo a referto già quattro gol. Sì, diciamo che sono molto contento per questo febbraio e soprattutto per essere arrivato e essere riuscito a dare una mano a questa squadra che ne aveva bisogno, diciamo che sia il miglior febbraio fino adesso della mia carriera, venivo da un momento non facile e sono veramente contento perché qui diciamo che sono un po' arrinato, sto trovando il giocatore che sono e sono veramente contento, devo ringraziare questa squadra perché i miei gol sicuramente sono frutto di un lavoro che parte dal lunedì e poi viene messo in campo la domenica, quindi il merito dei miei gol non è solo il mio ma è di tutta questa squadra, quindi il merito va a tutti. Sono arrivato in un momento non molto buono di classifica per questa squadra, però diciamo che in tutte le partite che si sono state disputate c'è sempre stato un gran gioco che però diciamo non veniva finalizzato e quindi poi prendendo uno o due gol le partite si perdevano. Noi abbiamo dato la dimostrazione che siamo una squadra forte, che sappiamo reagire bene anche nei momenti di difficoltà, quindi diciamo che ho trovato una squadra che è forte e che sono sicuro che possiamo fare tanto e possiamo cercare di puntare in più in alto possibile. Io e Gabri oltre ad essere compagni di squadra siamo anche amici, mi sono trovato subito bene con lui, mi ha fatto subito fare entrare parte di questo gruppo meraviglioso e sono veramente contento, lo devo ringraziare perché mi ha subito reso partecipe. Per noi diciamo che è una partita che non abbiamo tanto da perdere, nel senso loro hanno più da perdere di noi, noi andremo in campo e faremo la partita quella che abbiamo sempre fatto con tutte le squadre, noi lo sappiamo qual è il nostro obiettivo, è sempre la salvezza, una volta raggiunta quella si inizia a pensare a guardare sopra. Dopo una settimana complicata e siamo in serie di torno a sorridere il notaresco e insieme a lui anche il tecnico Massimo Epifani, la vittoria contro il Porto d'Ascoli per mettere su blu di tornare in zona playoff. Mister, partiamo dalla fine, che fosse una partita che c'era la necessità di vincerla il finale quando hai messo il terzo difensore per fare una difesa ancora più accorta perché il primo obiettivo era portare questi tre punti a casa. Sì, di vitale importanza perché tutto quello che è successo in settimana scorsa, ma non avevo dubbi sui miei ragazzi che mi davano una risposta oggi importante, come l'hanno data lunedì quando me ne ero andata, quindi sono contento e orgoglioso ancora di più di allenare questo gruppo. Poi la partita ho messo i tre difensori alla fine perché tra l'altro Nicolo Valenti che ha fatto una grande partita insieme a molti altri e Pampano, anche lui, avevano i crampi, ho dovuto cambiare e ho deciso di mettermi a tre perché sapevo che loro alla fine buttavano una palla in aria e per evitare sorprese ho messo un altro giocatore nella linea difensiva. Cosa può cambiare, se può cambiare qualcosa questo match? Niente, a me non mi cambia niente perché io lavoro quotidianamente con questi ragazzi, sicuramente stiamo facendo meno di quello che possiamo fare, questo è sicuro. Nel computo generale e anche psicologico della squadra? Sicuramente una grande mano, come quando tu stai per terra adesso ti arriva uno, ti dà la mano e ti rialza, oggi ci siamo rialzati e l'abbiamo fatto con forza, con voglia, contro una squadra che è una buona squadra, una squadra che è allenata bene, si difende bene e riparte anche molto bene, quindi era anche una partita difficile, i ragazzi l'hanno interpretata bene, abbiamo fatto bene e è logico che da questa vittoria dobbiamo costruire solamente che la testa deve pensare meglio, non siamo sicuramente quelli delle quattro partite precedenti, siamo sicuramente qualcosa di più. Per arrivare ai play-off? No, no, adesso dobbiamo, oggi ho detto ragazzi dobbiamo vincere una partita, perché poi quando i campionati prendono una piega strana, innanzitutto dobbiamo arrivare a 41 punti, 42 punti per stare a guardare la serie D, poi sicuramente noi abbiamo la qualità non per salvarci, per fare molto meglio. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. io vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao! 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 Grazie a tutti.